eccolo qua prendo splendida forma e Pedro troveremo qualcosa oggi vediamo eh andiamo un po' la ricerca Pedro ma amore ma sei ancora bravo allora ma sei bravissimo ancora adesso ti do il premio è bello che è il porcino guardiamolo un po' fammelo vedere guardate Pedro come è contento che aspetta il premio adesso te lo do bravo amore bravo allora vediamo com'è il porcino innanzitutto perché mi sembra di quegli no non è bello Tato è più che bello è bello ma mamma mia guardiamo ragazzi aiuto ma non ho parole non ho parole ragazzi troppo bello bravo amore ma sei bravissimo valla vedere bravo amore facciamogliare gli altri bravo amore quelli sì che sono belli che sono grossi ragazzi finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a ritornare con Pedro eh c'è un campione chiaramente vuole il premio guardatelo guardate perché vuole il premio amore te lo do 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 e ma sei c'è ma si ci ha il premio attenta e tato guardate che curcini adesso la cuocina tieni stena tieni mangi mangi bravo bravo aiuto ragazzi guardate che meraviglia abbiamo questo, questo, questo qua, questo qua, e almeno altri due, qua, e quello, e poi non ce n'è un altro, nascuna strida, eccolo qua l'altro, questi sono bellissimi, questo è una bellezza, come li chiamiamo, cominciamo con gli aggettivi, i giochi degli aggettivi, i giochi degli aggettivi degli aggettivi che non ha esistenti aggettivi oggi da poter utilizzare per mostrare tutta questa bellezza, questa candore, questa, e vediamo, facciamo questo qua, facciamo questo bollettino, ci metto un buon occhio e stai muovendo oppa la viene inquadratta viene inquadratta e anche questo è l'arte mamma mia è morto mi treman le mani ragazzi mamma mia che splendido che splendore che splendore questo si è bellissimo prendiamo questi vediamo questi mi sono fatti ragazzi ma sarà bello mio Pedro ma quanto sei bello ma quanto sei bello che bello dopo raccogliamo anche questo adesso vediamo qua vieni questo dopo raccogliamo anche questi ecco mamma mia ragazzi ecco 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 vedete vediamo vediamo i dati vediamo i dati vediamo il sacco ecco cacchicardiaci! una vacca miseria! aiuta ragazzi che nozzone! guardate! aspetta! guardiamo questo! che colore? ma come sei bello! guardiamoli un'altra volta! sono bellissime! dov'è? è lì! ma sei bravissimo! hai corso! bravo! sei bravo! ciao pedro! vieni! sta fermo! guardiamo questo ragazzi! anche tu amore sei bellissimo! che splendore! guardate! ah non l'ha mica visto! adesso si che l'hai visto! questo è il tenore della felicità! spedro che aspetta! bravo! bravo! vediamo com'è stato quel fungo! è molto bello! che splendore! devo vedere! mamma mia ragazzi! che splendore! è un po' più di bello! scusa! sei bello stella! sei un po' più di bello! meraviglia! ah che splendore! vediamo! ah si! ah! è quello! vediamo com'è! è un giallo! è bello! è bello! ti usavo! pregio! bravo! tinta buona! Stai sentito! Pena del bacino? Lui è ancora lui! Bacino al papà! Dov'è Ted? dov'è amore farlo vedere dov'è è bravissimo resta resta seduto vediamo com'è vediamo come è bravo vediamo come è bravo facciamo un po' la pappa guarda guarda è bella luna ma che patatone ma sempre patatone poi lo facciamo guarda guarda muovere ma sei bravissimo vediamo com'è oh mamma mia questo ragazzi si sa che di quelli da come mi toccarli il gambo poi ti lo dico guarda guarda buono un diamantino bianco sei un diamantino bianco anche tu e un altro tetto l'abbiamo trovato e mio amore vediamo com'è prima eh c'è una bella gambetta eh mamma mia ragazza guarda 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 che gioia abbiamo ancora ragazzi eh Pepe ma sei bravo sei bravo sei bravissimo ma sei bravissimo